L'Università vuole entrare a pieno titolo nelle decisioni del nuovo ospedale. Già a margine dell'incontro in Regione, dello scorso 29 ottobre, il nuovo Rettore Rosario Rizzuto aveva detto che l'Ateneo, attraverso un gruppo tecnico, avrebbe definito i contenuti sostanziali del nuovo policlinico. Non importa il sito se Padova Est o la vecchia ipotesi di Padova Ovest, l'importante è che ci siano 470.000 metri quadri a disposizione. Il Rettore, nell'ultimo Consiglio di Amministrazione di due giorni fa, ha messo nero su bianco queste parole. Il Partito Democratico, alla luce proprio di questa decisione del Rettore, chiede che il Sindaco non perda altro tempo come è accaduto all'indomani dell'elezione di Bitonici. È condivisibilissima questa volontà del nostro Ateneo, che è anche un'istituzione che fa grande, il nostro ospedale. Il Rettore immagino di aver colto anche delle sue dichiarazioni, non vuole un ospedalicchio, una strutturina, vuole un ospedale all'altezza dell'eccellenza europea che deve contraddistinguere il nuovo ospedale di Padova. Immagino sarà anche stanca l'Università di aspettare, visto che c'era già un sito che era Padova Ovest, poi Bitonici non voleva che venisse fatto là per motivi elettorali, l'ha spostato, eccetera. Ad oggi purtroppo i fatti sono molto pochi, ci sono molte speculazioni e pochi fatti, molte dichiarazioni zero prospettive. L'Università fa bene nel suo ruolo anche superparte, sa di incalzare perché vengano prodotte delle cose concrete. Se no rischiamo di andare a Rimorchio di Verona ed è una prospettiva drammatica per la nostra città.